Noi siamo in un centro di nutrizione supplementare del governo ciadiano nella regione Canem, dove l'UNICEF ha un programma intensivo di approccio ai bambini severamente e acutamente malnutriti. In questo momento ne abbiamo circa 45. Se la situazione, come sembra, peggiorerà, fra 3-4 mesi potrebbero essere 400. Questo è un bambino che ha una malnutrizione importante, acuta, un bambino di circa 5 mesi, non ha complicazioni in atto, è ancora abbastanza vivace, contrariamente a questa bambina qui vicino. Mi sembra che si possa continuare il trattamento qui. In questo centro solo diamo trattamento per malnutrizione severa e malnutrizione senza complicazioni. La presa in carico del bambino malnutrito prevede l'introduzione del Plumpinat, che è un prodotto terapeutico ad alta concentrazione calorica e ad alta concentrazione di minerali. Comprende in sé, quindi, una serie di interventi terapeutici che nel passato erano separati. Quindi, se l'onfa ha terminato il test, le sacchie di Plumpinat, ci si dà la razione per andare a casa. Quindi, ci si dà 14 sacchie, ci si dà 2 sacchie per giorno, per 7 giorni. E l'onfa va a rinforzare il mardi prossimo. Abbiamo motivo di credere che il lavoro dell'Unicef, attraverso l'appoggio a tutti i sistemi, è positivo, accolto e, soprattutto, riesce a modificare e a trasformare la vita delle persone del Gran Canem. Per questo ringraziamo i donatori italiani che ci hanno sostenuto.